Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Arezzo TV. Sarebbe di Claudio Bindi, il corpo ritrovato senza vita in avanzato stato di decomposizione nei boschi di Figline. A dirlo sarebbe stato il riconoscimento all'Istituto di Medicina Legale di Firenze da parte della famiglia. Degli abiti ritrovati sul corpo sarebbero gli stessi che Bindi indossava al momento dell'allontanamento. Dopo un mese purtroppo potrebbero così finire nella peggiore dei modi le ricerche del 62enne che era scomparso lo scorso 4 marzo da Pian Disco. Adesso sarà l'autopsia che sarà svolta probabilmente domani a stabilire l'esatta causa della morte. E adesso torniamo a parlare della rapina di ieri in Piazza Zucchi per sentire le voci dei testimoni. Sembrava quasi un film, non siamo riusciti a mettere a fuoco quello che è successo. Sono stati attimi di tensione quelli vissuti in Piazza Zucchi nel quartiere di Saione dove una tentata rapina è stata sventata anche grazie al contributo dei commercianti e residenti della zona. Il rapinatore è entrato in azione ieri pomeriggio attorno alle 15.30 quando ha fatto irruzione in un negozio di casalinghi armato di pistola, poi risultata giocattolo. Ce l'ha puntata contro, cercando di minacciarci, metterci paura, però non l'abbiamo lasciato entrare proprio perché c'era la figlia della titolare che ha 5 anni dietro di me. Ne è nata così una colluttazione. È avvenuta principalmente all'esterno del negozio, insieme al marito, poi sono intervenuta a dargli una mano perché lo stava stringendo, non respirava, e poi si è scagliato anche contro di me. Fondamentale a questo punto l'intervento dei cittadini. Eravamo in ufficio, si è precipitata una signora con due o tre bambini, gridando, chiamate la polizia che si sta consumando una rapina. Il malvivente ha anche tentato la fuga ma è stato rincorso e fermato. L'abbiamo bloccato, abbiamo cercato di calmarlo. È stato così trattenuto sino all'arrivo degli agenti della questura di Arezzo, in manette finito un 27enne di origini napoletane con precedenti penali. C'è stata veramente una coesione, una condivisione, una solidarietà da parte dei residenti e dei commercianti che in quel momento si trovavano. E questo è un altro punto, una dimostrazione di civiltà di questo quartiere, dove le differenze non sono una barriera, ma le differenze rappresentano un valore. Il cane antidroga Batman ha scovato stupefacenti sotterrati al parco del Pionte pronti per la vendita. Sono stati infatti i carabinieri di Arezzo a trovare un etto di hashish già suddiviso in dosi, che è stato ovviamente sequestrato per effettuare ulteriori accertamenti e cercare di risalire al o ai pusher. Sempre i militari di Arezzo hanno denunciato una donna perché si è rifiutata di fornire le proprie generalità ed è stata trovata anche in possesso di due coltelli. Nell'ambito di controlli mirati in città, i carabinieri hanno infine rintracciato ed arrestato un 62enne sul quale pendeva un ordine di carcerazione, dovendo scontare cinque anni di reclusione per una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta. In Casentino invece i militari hanno rintracciato con un'indagine lampo una donna evasa dagli arresti domiciliari. I militari l'hanno sorpresa a bordo del treno del Casentino che appunto viaggia sulla tratta Arezzo-Stia. Dopo l'arresto la donna è stata tradotta presso il carcere di Firenze-Sollicciano. E ancora cronaca, purtroppo ci sono nuove segnalazioni di truffe per contratti gas e luce. A lanciare l'allarme è la stessa estra. Le utenze luce e gas sono senza dubbio una delle voci che più pesano sulle spese familiari. Per questo cadere in offerte allettanti che promettono super sconti o tariffe molto vantaggiose può essere molto facile. Tra i canali più usati dai truffatori c'è il telefono attraverso il quale raggiungono facilmente le vittime delle frodi, purtroppo sempre più frequenti. A mettere in guardia i cittadini dopo le nuove segnalazioni di tentativi di raggiri è estra che avverte di prestare molta attenzione ed invita a segnalare questo tipo di episodi quando avvengono. Sono stati infatti segnalati casi di comportamento scorretto adottato da altri operatori energetici che pur di acquisire il cliente non conoscono il remore di comportamento spacciandosi per operatori di estra. Si tratta in particolare di soggetti che hanno come unico obiettivo quello di far sottoscrivere con l'inganno nuovi contratti con altri operatori. Questi soggetti non hanno alcuna relazione però con l'azienda, chiamano i clienti estra proponendo cambi di tariffa. Estra sottolinea poi di non effettuare chiamate ai propri clienti per variazioni di tariffe o listini e ricorda che qualora un cittadino ritenga di essere stato truffato può recedere dal nuovo contratto anche se già firmato senza alcuna spesa entro 14 giorni lavorativi. Comportamenti di questo genere sono già stati sanzionati da numerosi tribunali italiani e l'azienda adesso si riserva di procedere per vie legali. E' stata asporta denuncia da parte della Presidente dell'Associazione senza averi sulla lingua per il danneggiamento della panchina rossa installata da Rezzo ed inaugurata lo scorso 27 novembre al Parco Foro Boario. I gnoti hanno rimosso la targa dell'omonima associazione con la scritta Essere donna richiede coraggio. Sottratte anche le scarpette rosse simboliche che erano state poste ai piedi della panchina. Esprimo ferma condanna per questo episodio, ha dichiarato l'assessore Giovanna Carlettini, un sentimento dettato dalla constatazione che c'è ancora molto da fare in termini di sensibilizzazione. L'associazione senza veli sulla lingua invece si è riservata alla Costituzione di parte civile in caso di procedimento penale e del riconoscimento del danno. Torniamo adesso a parlare della crollo in un'aula. La scuola media Margaritone sull'episodio è intervenuta con una nota a blocco studentesco. Il sistema scuola deve essere riformato, hanno dichiarato, e il primo passo deve avvenire sul piano strutturale affinché gli studenti possano svolgere attività scolastica in sicurezza. Intervenuti anche i consiglieri comunali di Scelguarezzo, Marco Donati e Valentina Sileno. Esattamente il 23 febbraio scorso abbiamo presentato in consiglio comunale un'interrogazione con la quale chiedevamo chiarimenti in merito all'uscita di emergenza proprio della scuola di Beatricca. A fronte di tutto questo ci chiediamo come mai a distanza di un mese e mezzo da cui il nostro atto formale non sia stata fornita risposta e se questo tempo richiesto per un'operazione di tale semplicità quanto ne servirà per un capillare monitoraggio strutturale. Ed ancora politica, dopo l'escalation di episodi di cronaca che hanno visto come protagonisti giovanissimi da parte dei gruppi di opposizione è partita la richiesta di un consiglio comunale aperto sul tema del disagio giovanile. È stato dunque fissato per giovedì 13 aprile alle 15.30 ed il termine per la prenotazione degli interventi che possono essere tenuti durante il consiglio comunale aperto convocato dal presidente Luca Stella scade venerdì 7 aprile. L'indirizzo email è consigliocomunale at comune.arezzo.it E adesso parliamo di volontariate ed andiamo a sentire l'appello lanciato dalla misericordia. Presidente, tutti i vostri volontari escono da un periodo davvero molto particolare. Ecco, lo spirito che li muove è stato sempre lo stesso, però hanno affrontato anche una pandemia. Adesso ci sono comunque tante nuove leve a cui fare appello perché non bastano mai i volontari. Che cosa si sente di dire sotto questo profilo per dare davvero una spinta ancora maggiore a chi volesse impegnarsi? Io credo davvero che il volontariato è un bene, un patrimonio della nostra società, è un patrimonio dell'Italia. Ricordo sempre che in Italia ci sono circa 5 milioni di volontari nei vari settori, persone che dedicano il loro tempo con generosità, con amore. Certo c'è stata la pandemia, la pandemia non ha fatto scemare il servizio al prossimo. Anzi, in alcuni luoghi sono stati l'ultimo avamposto, in alcuni luoghi il mondo del volontariato è cresciuto, in altri purtroppo abbiamo visto anche decrescere il numero dei volontari per tanti motivi, anche voglio dire un po' la paura, un po' la chiusura, un po' tante cose. Ma il volontariato è un'anima bella dell'Italia, è un paese nostro di accoglienza. Siamo presenti, ripeto, da otto secoli in tante situazioni, oggi siamo stati presenti appunto nella pandemia, come sfumo presenti nel 1244, quando siamo nati in quegli anni, in quei secoli, con le pesti, con le carestie, con tanti momenti di crisi, ma siamo stati molto vicini al popolo dell'Ucraina, con i nostri moduli DISEVAC, che sono l'acronimo di Disability Evacuation, cioè il trasporto di persone con disabilità dalla frontiera ucraina alla Polonia verso i paesi dell'Europa, molti in Italia. Da uomo delle istituzioni, da uomo che ha servito per 40 anni le istituzioni, mi rivolgo in questo caso alle istituzioni, come rappresentante di uno dei più grandi movimenti italiani, con 100.000 volontari, 700.000 soci, oltre 800 sedi in Italia. Quindi da uomo delle istituzioni alle istituzioni non ci dimentichiamo del volontariato. Devo dire che qui nel comune di Arezzo c'è una bella realtà e anche una bella sinergia tra il comune, le associazioni di volontariato, ma anche in generale, i nostri sindaci sono vicini alle misericordie, le istituzioni più alte, la regione, ma soprattutto anche chi ci governa, non l'attuale governo in senso stretto, in generale, chi governa deve farsi carico del mondo del volontariato, deve supportarlo, deve aiutarlo. Perché? Perché se non si ha a cuore gli ultimi, gli invisibili, i sofferenti e non si ha a cuore chi si occupa di queste persone, ecco io lo trovo, come dire, non politicamente corretto. Le ACLI di Arezzo hanno organizzato una giornata per conoscere e comprendere gli attuali scenari internazionali di geopolitica. A parlarne sarà Lucio Caracciolo, fondatore e direttore della rivista Limes, mercoledì 12, un doppio appuntamento alle 11 in Sala dei Grandi della provincia con gli studenti e alle 17 alla Teatro Pietro Aretino con la cittadinanza, dove verranno affrontate tematiche di stretta attualità, a partire dai conflitti in corso, dalle gerarchie tra potenze e l'instabilità dei rapporti tra gli stati. E si avvicina la Pasqua, andiamo a sentire adesso il messaggio del Vescovo di Arezzo Cortone e Sansepolcro, Andrea Migliavacca, per il suo primo anno qui in città. Prima Pasqua per il Vescovo di Arezzo Cortone e Sansepolcro, Andrea Migliavacca, che abbiamo incontrato qui proprio nel Sagrato del Duomo, per il suo messaggio appunto a tutta la diocesi. Siamo in questa piazza del Duomo di Arezzo, ora piena di luce, piena dei raggi del sole, e allora il primo pensiero è un augurio di luce che arrivi nelle nostre case, nei nostri cuori, nelle nostre vite. È un tempo in cui zone di ombra ci sono, conosciamo le difficoltà economiche, vicino a noi c'è la guerra con tanta violenza e con situazioni di morte, di distruzione, ma anche veniamo da anni davvero di difficoltà e poi ci sono le ombre che ciascuno di noi conosce della propria vita, del proprio cuore. Entri la luce, ecco che la Pasqua faccia entrare la luce e la luce rinnova le cose, riporta vita, porta speranza, energia per camminare e per noi la luce è Cristo risorto. In fondo il segno che lo richiama nella notte di Pasqua è il cero acceso che viene benedetto, segno della presenza di Gesù vivo che ha illuminato ogni ombra, ha portato la luce, ha portato la vita. Allora l'augurio è questo, che nelle nostre case, nelle nostre vite, nel nostro mondo di oggi arrivi la luce che è Cristo risorto, che per tutti noi, per voi, diventi speranza e nuove possibilità di cammino. Per lei è la prima Pasqua da Vescovo in questa diocesi che immagino avrà un po' iniziato a conoscere. Lei ha voluto davvero essere presente in tutti gli angoli di questo territorio. Che cosa ha portato questa presenza così capillare? Che cosa ha capito di questa comunità? Anzitutto mi sono arricchito perché incontrare le diverse zone e le persone, le situazioni delle diverse zone aiuta a capire le diversità e le ricchezze di ciascun territorio, di ciascuna area, le tradizioni che le accompagnano e le prospettive che ci sono. Quindi è stato un arricchimento per me. Poi la mia presenza, la mia visita, oltre che per conoscere, ho bisogno di conoscere la diocesi, voleva essere e vuole essere anche un segno di presenza della realtà diocesana in ogni territorio. E qui nella città, ma in ogni angolo della diocesi, anche nel paese più lontano e sulle montagne, è presente la chiesa. E il mio andare in quei luoghi vuole essere segno reale di questa presenza. Come ogni anno, una delegazione della Misericordia di Arezzo, le sue componenti della Valigia dei Sorrisi, il gruppo Clown Dottori della Misericordia Aretina, hanno raccorto un sufficiente quantitativo di uova pasquale di cioccolato, risultato di tante donazioni e le hanno consegnate fisicamente in regalo ai bambini e al personale di casa Tevenin. Voltiamo adesso pagina. La premiera internazionale di Rumors, la prima serie partecipata, realizzata interamente ad Arezzo da Aretini, sarà a Denver in Colorado il prossimo maggio. La Farrago, associazione retina di promozione sociale che ha curato il progetto, è stata infatti nominata nella rosa. Le dieci finalisti della categoria Drama nel prestigioso festival statunitense dedicato alla serialità indipendente. Rumors è l'unica serie europea in concorso per questa categoria. E dopo gli annunci di Salmo, Rosa Chemical, Baustelle e Comacose, un altro grande nome si aggiunge alla line-up del Mango Music Fest, la Love Gang 126, che salirà sul palco della Prato per la serata inaugurale di martedì 4 luglio. L'evento sarà ad ingresso gratuito. Ed in Valdichiana, invece, in occasione del Cortona Comics, arriverà Tananai. Si tratta di una delle sorprese che la manifestazione toscana sta svelando in questi ultimi giorni. Un'edizione dunque che si sta caratterizzando non solo per la celebrazione del fumetto, già oltre 50 gli ospiti annunciati, ma anche per l'attenzione agli altri media. Passiamo adesso allo sport. Oggi Arezzo Ostia Mare conclusasi in un pareggio 0-0. Passiamo al calcio femminile. Le ragazze amaranto continuano a far parlare di sé il Consiglio regionale. Infatti, le ha volute premiare. La squadra imbattibile dell'Arezzo calcio femminile, che nella stagione 2021-2022 ha vinto il campionato di Serie C senza mai perdere una partita premiata da parte del Consiglio regionale. Con questa premiazione vogliamo sottolineare non soltanto le cesta sportive, che sono state veramente esaltanti, perché una squadra che non perde mai una partita durante il campionato credo che sia veramente da Guinness deprimati. Ma queste ragazze portano un messaggio che va oltre le cesta sportive, portano un messaggio di forza delle donne, di riscatto, di determinazione, di pari opportunità. E quindi questo è l'altro aspetto altrettanto importante che con questo premio noi vogliamo sottolineare. Una storia, quella dell'Arezzo calcio femminile, che ha avuto anche una grande comediatica in seguito al docufilmo Una Storia Impossibile. Sappiamo bene quanto sia importante per il calcio femminile tutto questo. sta crescendo molto e se noi abbiamo potuto fare qualcosa, seppur piccolo però comunque grande, siamo liete di essere anche qui presenti per questo invito. Il messaggio sicuramente per le ragazze è di seguire le proprie passioni, non farsi abbattere da chi magari gli può dire che non sia lo sport giusto, perché non esiste lo sport giusto. Se questa è la tua passione è giusto seguirla. Per i ragazzi cercare di essere un pochino magari più tolleranti verso le loro colleghe donne. Il presidente Amaranto infine ha portato in donna alla regione una maglia dell'Arezzo calcio femminile con il numero 1970, l'anno in cui è nata la regione toscana come istituzione. Diciamo che l'anno scorso è stata veramente una cavalcata incredibile perché l'imbattibilità e tutta una serie di risultati ci ha permesso veramente di coronare un'annata perfetta. Sì, la squadra, le ragazze, le singole, ma poi il gruppo, ciò che viene poi dopo creato attorno allo spogliatoio. Tutto insieme ha portato questo grandissimo risultato. Sono cortonesi le campionesse regionali di Scacchi, si tratta di quattro giovanissime studentesse alle quali arrivano adesso le congratulazioni dell'amministrazione comunale di Cortona. Le ragazze frequentano la scuola secondaria di primo grado all'Istituto Comprensivo Cortona II e Gino Bartali che da alcuni anni organizza il progetto Scacchi Terra. Quest'anno, dopo aver svolto una gara di istituto, gli alunni hanno partecipato ai campionati studenteschi di scacchi organizzati dalla Federazione Scacchistica Italiana. Sei cadetti e sei cadetta hanno poi potuto accedere alla fase provinciale che si è svolta ad Arezzo. Le due squadre che si sono classificate per le regionali sono partite il 3 aprile per Firenze e le cadette prima classificate adesso parteciperanno alla gara nazionale che si svolgerà a Montesilvano i primi di maggio. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.